carissimi bentornati nuova puntata del libro di tenera amata siamo giunti alla numero 22 e ci troviamo più o meno a un po più della metà verso i due terzi dell'opera avverto subito che questa sera sarà dei passaggi molto 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 belli e molto e molto importanti come accennato la volta scorsa e oggi il signore attraverso tenera amata vero che questa è una cosa che ci si può arrivare anche dai principi generali della fede ma parlerà del perché il dolore nel mondo il grande scacco della della sofferenza dinanzi a cui molti cadono addirittura anche negando l'esistenza di dio che dicono ma se dio non essere così buono così santo perché il dolore e vedremo e vedremo il perché vedremo anche delle belle sorprese che ci aiuteranno a conoscere a comprendere meglio il nostro dio e anche a capire bene a chi affibbiare colpe e responsabilità per le cose che non funzionano non è mai colpa di dio dio è sempre innocente le colpe vanno sempre cercate da qualche altra parte io direi di non dilungarmi troppo nelle introduzioni ma di passare immediatamente alla lettura e siamo nel libro digitale io mi trovo a pagina 69 credo che il libro digitale riproduca più o meno il cartaceo e riprendo da dove ci siamo fermati la volta scorsa magari leggo l'ultimo capoverso come sempre per ricontestualizzarci un po magari disse tenera madre interrompendo i miei pensieri il nostro dio ti facesse dono nella tua vita mortale della convinzione profonda ed operativa dell'amore se ciò fosse comprenderesti un po ciò che è veramente l'amore creato e per analogia l'amore increato cioè l'amore personale con cui il nostro dio padre e il nostro dio figlio incarnato si amano nella loro santissima trinità al di là di tutto l'infinito forse accennavo una volta scorsa che che oggi si parla si riparla si riparla si riparla no i classici discorsi l'amore di dio l'amore di dio l'amore di dio a volte diventano discorsi anche un po retorici oppure triti e ritriti no oppure vuoti di contenuto quando uno non sa che di tanto se dice che 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 dio è buono e che ci ama dice sempre giusto perché non si sbaglia mai no però non si può come dire trasformare questa che è la cosa più bella che esiste in tutto l'universo come dire in un discorso vuoto di circostanza o in quello che viene comunemente chiamato un po aria fritta no no non si può perché qui stiamo proprio nel nel cuore e invito tutti invito me a pregare immensamente il signore che ci doni la convinzione profonda ed operativa dell'amore sappiamo che tutti quanti i discorsi che tenera amata fa a riccardo e quindi che noi possiamo sentire hanno questo scopo formare convinzioni profonde e operative in vista di una grande santificazione sulla terra e quindi una grande glorificazione in cielo allora riccardo risponde c'eravamo fermati qui tenera amata queste idee sono molto elevate per me e lei risponde ma non lo sono tanto se disponi il tuo udito intellettuale ad ascoltarle e crederle attenzione a questi passaggi i misteri divini sono inaccessibili al peccatore superbo ed egoista ma sono facili da credere non dico da penetrare con la mente al cristiano libero generoso e forte all'autentico credente assiste il dono divino di assaporare le cose dell'altissimo e qui tocca fare già subito il secondo pit stop perché questo è un passaggio meraviglioso non è vero che è troppo difficile niente è troppo difficile sapeste quante persone mi scrivono oppure intervengono oppure mi dicono ma sta divina volontà è troppo difficile ma non è difficile ma se l'ha vissuta la madonna che è la persona certo intelligentissima ma più semplice di questo mondo non è così tanto difficile è difficile nella misura in cui purtroppo non disponiamo il nostro udito intellettuale ad ascoltare e credere quasi sempre questo lo facciamo perché abbiamo delle idee dei preconcetti dei pregiudizi qualcuno le chiama con un termine un po' più complicato delle precomprensioni attraverso cui filtriamo le cose che ascoltiamo e quindi se il nostro signore vuole dirci qualcosa di bello qualcosa che esce dai nostri quattro schemi noi non l'ascoltiamo non è che è difficile il concetto è che ci sono delle bardiere dentro la mia testolina o dentro il mio cuoricino che quel concetto non lo fanno passare quando poi si sta nello stato di peccatore in senso forte, in senso stretto quindi superbo ed egoista Dio resiste ai superbi si legge nella Sacra Scrittura Dio non si rivela al peccatore e quindi le cose dello spirito scrive San Paolo per l'uomo carnale immagine del peccatore sono follia non ne capirà nemmeno un H ecco come espressione che usa Gesù tante volte nel libro di Cieli non ne capiranno un H ma sono facili attenzione da credere non da penetrare con la mente attenzione noi anche vedete tante tante domande che a volte mi fanno e tante volte devo rispondere guarda figlio mio guarda figlia mia cioè il nostro intelletto arriva fino a un certo punto anche qui con il libro di di tenera amata se uno volesse si potrebbero fare centinaia di domande non è una cosa molto saggia è saggio a mio avviso rimanere a ciò che è detto a ciò che è rivelato perché ciò che non è detto vuol dire che il Signore non lo vuole rivelare non lo vuole rivelare perché non è necessario o non è utile o non è opportuno e quindi se lui non lo vuole rivelare e noi non andiamo ad indagare ci basta e ci avanza quello che ci ha detto e abbiamo molto da meditare e da cercare di comprendere quello che ci ha detto e attenzione però l'autentico credente assaporerà le cose dell'Altissimo io auguro a tutti di poter deliziarsi delle cose dell'Altissimo anche perché quando ci si delizia delle cose dell'Altissimo le altre piccole cose di questa vita mortale tornano immediatamente al posto loro perché non c'è paragone un certo Agostino di Ippona ossia Sant'Agostino ha lasciato scritto nelle confessioni insomma lui era uno che si è convertito e si è battezzato a circa 30 anni quindi prima ha vissuto come un pagano e quindi i pagani poi lui era una persona molto colta molto intelligente istruita frequentava certi ambienti un pochino no? molto in li definiremo oggi no? si è fatta la vita c'aveva un figlio lo sapete che Sant'Agostino c'era un figlio no? quindi ha Deodato quindi tutto normale perché è tutto quanto avvenuto prima del battesimo quindi niente cioè tutto normale tutto normale dentro un contesto di mentalità pagana no? eppure lui scrive un solo secondo di contatto intimo con il Signore non vale tutti quanti gli amplessi che ho avuto in tutta quanta la mia vita e insomma parla a ragion veduta e ad esperienza vissuta quindi è in grado di fare un paragone perché ha conosciuto l'uno e l'altro quindi chi va ancora troppo appresso ai piacere del mondo perché non conosce l'amore di Dio ed è solo chi non conosce l'amore di Dio che va per essere piacere del mondo perché quando uno c'è qualcosa di più bello e di più importante a cui pensare capite come le conoscenze divine ci rendono anche forti no? che te deve dentare al diavolo? che te deve dentare? cioè se uno è abituato a mangiare ostriche caviale scampi e mazzancolle e bistecca fiorentine da un chile e mezzo e che viene viene dentato da 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 cibi grossolani magnateli tu gli rispondi no? io ne ho altre a cui pensare no? dove fa mangiare che ne so l'uovo al tegamino io 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 mangio il caviare e le ostriche magnatelo tu l'uovo al tegamino no? cioè sono abituato ad altre cose questo è il paragone reale un po' basso ma allora riprende Riccardo e qui attenzione che abbiamo un passaggio clou pensai al dolore umano alle tante pene e sventure che ci affliggono durante la vita mortale tenere amata se Dio onnipotente e amore ci ama perché il dolore ci insidia in questo mondo ecco la domanda delle la domanda delle domande no? e dobbiamo sentire bene la risposta è questa mettercela bene in testa segnarcela e non dimenticarcela mai il Signore non voleva che l'umanità soffrisse minimamente sapevate questo qui molta gente dice ah no ma se tu hai preso al Signore poi bisogna soffrire e dice bisogna prendere la croce ogni giorno e seguirlo e questo è proprio ma io non voglio soffrire tanto bene il nostro Signore non voleva che soffrissimo nemmeno minimamente la sofferenza non è entrata nel mondo a causa dell'altissimo c'è un bellissimo passo della lamentazione del profeta Geremia che a me ogni volta che lo rileggo proprio colpisce in maniera veramente forte se ci riesco vorrei veramente trovarlo e leggere però al volo proprio in diretta che a un certo punto dice no ma l'altissimo contro il suo volere contro il suo desiderio egli umilia e affligge i figli degli uomini no dovrebbe essere il capitolo quarto del libro delle lamentazioni vediamo un po' se è vero no forse è il capitolo tre no è il capitolo tre eccolo qui ci arriviamo versetto 31 o meglio leggo dal versetto 26 anzi dal 25 ci gustiamo una parentesi di Sacra Scrittura perché sentite che bello questo brano buono è il Signore con chi spera in lui con l'anima di chi lo cerca è bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore è bene per l'uomo portare il gioco fin dalla giovinezza sieda costui solitario e resti in silenzio poiché egli glielo ha imposto cacci nella polvere la bocca forse c'è ancora speranza porga chi lo percuote la guancia si sazi di umiliazione poiché il Signore non rigetta mai ma se affligge avrà anche pietà secondo la sua grande misericordia attenzione a questa frase poiché contro il suo desiderio egli umilia e affligge i figli dell'uomo altra cosa da farci un bel quadro mettiamo insieme questo contro il suo desiderio egli umilia e affligge i figli dell'uomo con la frase di tenere amata il Signore non voleva che l'umanità soffrisse minimamente se fosse dipeso dal Signore la vita della terra sarebbe stato dove lui ci aveva posto appena creati sarebbe stato il paradiso terrestre sarebbe stato semplicemente l'anticamera del paradiso questo è quello che Dio voleva che la terra sia diventata per molti l'anticamera dell'inferno e per molti altri l'anticamera del purgatorio ma questo non dipende dall'altissimo questo dipende da noi diciamo noi che l'abbiamo fatta diventare così allora proseguo la spiegazione di tenere amata quindi Dio non voleva che soffrisse l'uomo ma l'uomo si è smarrito nel peccato e il nostro Dio ha permesso il dolore che è a conseguenza del peccato il dolore sofferto cristianamente affinché il mortare nel ritrovare se stesso nella sua impotenza possa ritornare al suo legittimo stato di amico e di figlio adottivo del creatore cioè il peccato produce la morte la sofferenza il Signore quindi ogni tanto ti lascia nella sofferenza certo certo perché perché tu capisca che stai soffrendo a causa dei tuoi peccati ti fermi e ritorni nelle braccia del tuo creatore tutto qua chi si allontana da Dio e fa una vita apparentemente fantastica no? fai quello che vuoi cioè do what you wish il motto di Aristar Crowley fondatore del satanismo sì ma che bello posso fare tutto quello che mi pare ma prova vedrai prova a dare libero sfogo alla tua amana volontà vai vai buon divertimento vedrai come sei vedrai come sei contento ti ritroverai nell'inferno assoluto nell'angoscia più profonda nella depressione più nera nel peggio del peggio accumulato dentro il tuo cuore le passioni più becere e il signore spera che questa sofferenza che tu ti sei dato da solo non te la data lui si trasformi in occasione per ritorno a lui come la parabola del figlio al prodigo evidentemente mostra in maniera inequivocabile no? quindi come vedi la sofferenza cristiana è diventata una preziosissima forma dell'amore di carità un ingegnoso modo di raggiungere l'altissimo e attenzione a quest'altro passaggio tuttavia nel cielo disse con tristezza deploriamo lo spreco del dolore umano gli sprechi sono sempre peccato se l'anno prossimo come mi è già barenato in mente quindi dopo tenere amata ascolteremo Gloria Polo vedrete su Gloria Polo che guai passa dinanzi alla divina giustizia è meglio che ve lo dico così uno vuole ripare prima che sia troppo tardi chi spreca il cibo il cibo non si spreca mai ma nemmeno in piccole quantità non c'è ragione per farlo ci si può organizzare lo spreco è sempre un peccato siamo d'accordo chi spreca l'energia elettrica che tiene la luce accesa a bambera chi spreca l'acqua chi spreca il tempo sprecare il tempo è un grande peccato chi spreca e sperpera i soldi d'accordo anche se è più frequente l'avarizia che lo sperpero ma ci abbiamo mai pensato che si spreca il dolore cosa che è che è deplorata dal cielo si spreca il dolore che significa quello che io dico sempre il dolore di per sé è una cosa negativa il dolore diventa una cosa positiva quando tu sai trasformarlo in croce quello che ha fatto Gesù trasformare il dolore in croce significa una cosa molto semplice che quella cosa brutta e negativa tu la fai tua l'accetti la accogli la offri ti lasci come dire ferire da quel dolore sotto la mano dell'altissimo riconoscendo che te lo meriti offrendo quindi quel dolore al Signore perdonando che te l'hai inflitto e vedrai che quel dolore produrrà dei frutti strepitosi se tu invece qualcuno ti insulta ti avveleni lo insulti peggio ti vendichi ti viene una malattia e stai a passare il tempo a bestemmiare e a impregare contro Dio che ti ha mandato questa malattia e che se fosse stato buono non te la mandava e cose del genere adesso gli esempi possono si potrebbero moltiplicare a dismisura sprechi dolore tanto soffri come prima anzi soffri peggio di prima perché chi soffre ribellandosi al dolore soffre il doppio se no se mi ribello almeno soffre di meno no soffri il doppio e sprechi quel dolore cioè sprechi l'occasione di trasformarlo in fonte di grazie questo è il dolore trasformato in croce prosegue è come buttare via miliardi nello scarico la sofferenza la sofferenza si perde quando soltanto si soffre e non si cristianizza lei lo chiama così e non si cristianizza io lo chiamo trasformare il dolore in croce ma il concetto è lo stesso il dolore si trasforma in felicità futura quando si soffre per amore di carità verso il Signore altrimenti il patire non è altro che un'emorragia spirituale ci sono fondamentalmente due tipi di sofferenze quelle che ci capitano che non ce le andiamo a cercare ma come tutti quanti i santi ci hanno insegnato i santi non facevano penitenza e penitenze perché oggi una montagna di sciocchi stolti e modernisti che si pensano che è tutto quello che è avvenuto nella storia prima di loro sono una banda di stupidi sono intelligenti soltanto loro a me questa cosa figlioli miei cari fin dai primi momenti in cui mi imbattevo contro questo modo di pensare io dico insomma io certamente non mi posso proporre a nessuno parte che come esempio di nessuna virtù a meno che mai dell'umiltà ahimè e pregate per me se avete questa carità dico però non si può non si può aggiungere a questi livelli proprio inaccettabili grossolani di superbia ma come ti permetti tu di 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 sentirti al di sopra di metterti a giudicare i santi quella io ho sentito dire di di Santa Margherita Maria della Cocca quella era una pazza psicopatica Santa Margherita Maria della Cocca era una pazza psicopatica dico ma ti ha dato di volta al cervello te sei bevuto un po' troppo ti sei obbligato di mostro dissero ai tempi degli atti degli apostoli ma tu sei scemo ma come ti permetti quindi fermo restando che certamente non possiamo metterci a giudicare i santi noi dobbiamo farci giudicare da loro non è che noi giudichiamo loro e com'è che facevano tutte queste penitenze alcune delle quali sono le quelli che erano delle cose estreme che chiaramente non è che possiamo metterci a rifarle nella stessa forma in cui le facevano loro però perché le facevano erano doloristi come dice qualcuno oggi ci stanno le uscite degli isti ogni tanto se qualcuno si è neanche qualche ista nuovo riferito a queste cose li chiamano i modernisti li chiamano i doloristi quelli che hanno l'idolatria del dolore addirittura ma pensate quante stupidaggini che tocca sentirsi dire tutto offerto per amore loro offrino le loro piccole cose per espiare le colpe proprie anche ma poco per riparare i peccati del mondo tanto per ottenere attraverso quelle sofferenze offerte per amore e la conversione ancora di più perché il nostro Signore che cosa ha fatto ha preso tutti i mali e i dolori e le sofferenze prodotte dai nostri peccati li ha offerti al Padre per amore perché tutto ciò che causa quei dolori cioè il peccato potesse essere cancellato e ne ritornassero grazie a benedizione questo è quello che ci ha insegnato il Signore e quindi i santi fanno quello che ha insegnato il Signore e non ti permettere di giudicare un santo se tu santo non sei riprende riprende Riccardo forse lo spreco del dolore è dovuto all'ignoranza eh risponditi alla amata sì in parte in gran parte sì occorrono dei veri apostoli al nostro Signore Gesù Cristo che senso dei veri apostoli che evangelizzino il dolore che tornino a dire chi vuol venire dietro di me risponditi ne chi se stesso prenda la sua crucia e mi segua perché ha detto Gesù nel Vangelo e a spiegare perché bisogna fare così Riccardo riprende non comprendo la ragione del dolore cristiano perché renderci graditi a Dio mediante la sofferenza perché non soddisfarlo per mezzo di lodi o del semplice pentimento dei peccati o di qualcosa del genere ma in modo indolore bella domanda no? quando te capita una cittadina del cielo uno si sfoga uno si toglie un po' di di belle domande dal cuore ma come? ma che ci fa questo Signore dei dolori? facciamo un bel sacrificio di lode sta scritto anche nei salmi che offre il sacrificio di lode questi ti onora facciamo che ci pentiamo dei peccati pentimento perfetto per carità mi dispiace tantissimo ma niente sofferenza però risposta di tenetamata ma perché la lode il pentimento la preghiera e qualunque altra forma è un dolore come tu dici noi la dobbiamo a Dio gliela dobbiamo a Dio al nostro Dio la dobbiamo a Dio al nostro Dio per altri motivi quindi dice la lode il pentimento la preghiera è qualunque altra forma di dolore come tu dici a Dio che la dobbiamo già per altri motivi la lode la dobbiamo a Dio perché lui è per essere colui che è è un dovere lodare Dio perché Dio se le merita le lodi Dio è superiore rispetto a noi e manco poco Dio Dio non si merita le bestemmie si merita lodi adorazioni a go go come si dice oggi l'adorazione perché ci ha creati lo sai che tu non esistevi 150 anni fa così ci rientriamo tutti e lo sai che cominciava ad essere non perché papà e mamma sono stati insieme quello è accidentale quello ma perché Dio ha creato la tua anima ah certo poi con il concorso anche dello stare insieme di papà e di mamma bella domanda voglio provare a fare questa bella domanda ma Dio crea l'anima dopo che c'è lo zigote oppure pensa l'anima in vista dello zigote e quindi è lui che permette che in quel dato momento quei due gameti diventino uno zigote perché per quel certo DNA c'ha pronta quell'anima ah io non sono in grado di rispondere a questa domanda penso che sia una bella domanda in ogni caso in forza di questo l'adorazione a Dio è dovuta io tante volte ho detto guardate che chi non adora il Signore internamente esternamente pecca mortalmente non è un peccatuccio io vedo ci sono persone con tutto che io faccio una testa così alle persone gliele insegno gliele spiego queste cose che anche dopo anni che studiano una parrocchia continuano durante la messa e ma la sacra l'ante volte lo bombardate a stare in piedi durante la consagrazione io chiaramente soffro a vedere queste cose qui ma dentro il mio cuore di sacerdote dico Signore mio ma che succederà a questo qua perché e che potrà dire davanti a te eh ma io non lo sapevo poi intorno a me stanno tutti in piedi stavo in piedi pure io perché intorno a me non stanno tutti in piedi la maggioranza delle persone stanno in ginocchi perché a forza di di guarda che Dio lo devi adorare ma tu non come ti permetti che scende dal cielo Gesù Cristo in persona ad attualizzare a rinnovare l'offerta del suo sacrificio e tu stai in piedi come un becca morto come un baccalà come uno stoccafisso ma che sei matto se c'hai la protesi alla gamba c'hai le cartilaggini massacrate te sei appena operato al crociato per carità va bene ma solo in questi casi va bene se no tu ti metti in ginocchio tanto sta a due minuti in ginocchio non succede niente quello che c'è un po' d'artrosi si passa davanti al Santissimo Sacramento così proprio senza manco io lo vedo in continuazione nelle chiese dove sto no? in quella dove sto adesso che è una chiesa turistica pensate che i turisti quando passano tanti al tabernacolo si accorgono nemmeno che c'è il tabernacolo e che c'è Gesù lì ma l'adorazione è un atto dovuto dovuto a Dio non è dice mo te faccio un favore va facciamo la genuflessione mo te faccio un favore quello è un atto dovuto quello lì il pentimento è un atto dovuto il peccatore deve pentirsi e piange dei peccati che ho commesso quindi il pentimento è un atto dovuto a Dio perché ci ama e tu peccando hai offeso l'amore e te devi pentire la preghiera noi da Dio dipendiamo non preghi peggio per te te perdi un autotreno di grazie spirituali materiali pure gli uomini piacciono tanto le cose materiali tu provi a pregare tanto vedrai se se ti manca qualcosa nulla ti manca sotto nessun punto di vista perché il Signore dà con sovrabbondanza quindi tutte quante queste cose sta dicendo te te la madre che vuoi tu vuoi dare a Dio la preghiera basta che gli do la preghiera la lode l'adorazione il pentimento e a che serve pure il dolore quelle cose sono già dovute a Dio non gli stai ancora dando niente di sostanzioso dice soltanto il dolore conclude della amata non è un nostro dovere di creatura per nessun titolo non c'è il dovere in quanto creature quindi in quanto creature quindi prescindendo diciamo da un punto di vista come dire teologico e logico appunto del del discorso che stiamo facendo per spiegarlo non ci sarebbe nessuna obbligo di rendere a Dio il dolore perciò la divina giustizia ha permesso ha tollerato poiché non è cosa che le faccia piacere l'abbiamo sentito nel libro delle lamentazioni il dolore cristiano come un originale procedimento didattico perché l'uomo possa completare ciò che manca alla sua redenzione cooperi all'annientamento dei propri peccati mediante la sofferenza riconosca se stesso e trovi con facilità il suo padre celeste attenzione alle motivazioni del dolore completare ciò che manca alla sua redenzione ce l'avete mai pensato? il Signore ci ha redenti sì ma vuole che noi cooperiamo alla nostra stessa redenzione ci mettiamo qualcosa del nostro primo i peccati sono perdonati sono annientati dalla dinamisericordia sì se sei pentito ma con la penitenza e la sofferenza tu cooperi al loro annientamento e Dio lo vuole e quindi la sofferenza gliela devi offrire e terzo riconosca se stesso e trovi con facilità il suo padre celeste la parabola del figlio e il prodigo solo quando l'uomo soffre quasi sempre rientra in se stesso non tutti quelli che soffrono rientrano in se stessi ma quasi tutti coloro che rientrano in se stessi sono entrati in se stessi a causa di qualche sofferenza anche grossa a volte non illuderti prosegue il dolore è indispensabile in questa vita di peccato il dolore è la tomba del peccato il dolore è l'annientamento per quanto sta in noi del peccato continua a leggere è sciocco pretendere sorvolare la sofferenza nel cammino cristiano col pretesto infantile di attirare più seguaci o quelli che predicano il cristianesimo senza croce il cristianesimo facile non seguiteli mai non seguiteli mai noi non abbiamo pretesi di attirare più seguaci no no se tutto il mondo diventa cristiano ne siamo felici ma il prezzo da pagare non è l'annacquamento della verità guardate questo oggi è un problema diffuso sotto tutti i punti di vista si stanno sempre a parlare nelle riunioni interminabili con vescovi di tutte le diocesi d'Italia di come facciamo a attirare i giovani a fare questa a fare quell'altro no allora secondo te i giovani si attirano proponendogli un cristianesimo abbiamo tanto questo sì ma non ti preoccupare d'accordo poi facciamo baldore facciamo questo facciamo quell'altro attenzione ben inteso io negli anni passati sentivo quando avevo un pochino di giovani che ho curato e seguito sentivo essere parte della mia missione di educatore diciamo così anche quella di educare i giovani a sapersi divertire senza farsi male una cosa importante una cosa importante ma non c'era solo questo io ai giovani pur con gradualità con le debite spero maniere al momento opportuno io io gli ho detto che cosa era cristianesimo e vi assicuro che funziona non funziona i giovani scappano soltanto quando si riduce la parrocchia alla brutta copia dei luoghi oggi ancora di più di ritrovo dei giovani io ricordo le mie esperienze giovanili mi sono sempre rifiutato di frequentare i gruppi parrocchiali giovanili perché? perché non c'era niente qualche volta che sono andato non c'era niente non trovavo niente se io devo andare qui io qui devo trovare qualche cosa di significativo che nel mondo non trovo che tu mi porti a mangiare la pizza ma io il sabato sera altro che pizza a mangiare la pizza poi vado a una discoteca e poi vado a a ecstasy and company ti dice un ragazzino che vuoi competere che vuoi che vuoi competere tu con questo di avere il coraggio di di presentare la nostra santa fede così com'è la religione del nostro signore Gesù Cristo prosegue non si concepisce senza austerità senza attenzione a questa parolina mortificazione volontaria senza l'accettazione con carità c maiuscola sempre carità vuol dire amore di Dio dei mali che permette il creatore senza venerdì santo datevi un'occhiata in giro ma sentite in giro queste cose vi abbia mai in qualcuno detto parlato di mortificazione volontaria mortificazione darti volontariamente la morte morte mortificazione mortificazione il digiuno è darsi la morte attenzione non ammazzarsi mi raccomando si capisce al senso metaforico di questa espressione no è una sofferenza ah io che sto tanto bene che posso far mangiare e bevuti giorni perché devo fare il digiuno io mangio qualcuno potrebbe dire e mangia ma Gesù ha fatto 40 giorni di digiuno prima dell'inizio della sua missione altri 40 se ne è fatti Mosè altri 40 se ne è fatti San Francesco tanto per citare i più i più grandi eroi Gesù ha esortato a digiunare dopo la sua partenza aggiungendo anche dei motivi nuovi al digiuno possono forse gli invitati a nozze digiunare quando lo sposo è con loro digiuneranno quando lo sposo non ci sarà più col digiuno noi diciamo anche al Signore a me non mi importa niente che se mangio non mangio mi importa se stasera faccio la comunione quello sì quello mi importa o stamattina attenzione non si concepisce neanche si concepisce il cristianesimo senza austerità dove stanno queste cose dove stanno i coloro che ancora insegnano con autorevolezza con fermezza con chiarezza queste cose tutti quanti a proporre il cristianesimo dalla mangiatoia bassa accessibile a tutti facile per tutti non è così non è mai stato così io ho raccontato tante volte che in seminario come credo ogni seminarista che sta lì dentro per vocazione quindi quando tu cominci lì stai tutto casato stai perché stai casato anche perché poi vuoi vuoi conoscere un po' meglio il tuo Dio a cui stai dando la vita dove lo vai a cercare io dico entrato là dentro e dico dove lo vado a cercare ma andavo in biblioteca e mi prendevo tutti i libri dei santi e me li e mi sono divorati è certo che tante volte leggendo tante cose restavo sconvolto dopodiché però mi dicevo una cosa molto semplice vediamo un pochino è più facile che se sono sbagliati in autotreno dei santi o che mi sbaglio io a proposito proprio di di queste grandi austerità che i santi praticavano e che io dico ma che devo fare pure io queste cose mi facevo mi preoccupavo e allora è più facile che ci hanno torto loro che ci ho torto io a cui queste cose sembrano strane figlio del ventesimo secolo domanda retorica no? dice allora è vero che bisogna soffrire ma non soltanto si soffre anche un po' nella vita cristiana ma la sofferenza non è non è tutto ed in ogni caso riprendo la lettura tuttavia sono dolori brevissimi se paragonati con l'eterna durata della gloria futura sono tribolazioni molto fruttuose per il cielo se si sopportano con amore di carità non c'è male che duri cent'anni dicono ma come fa male questo è un proverbio no? dice beh il mare non dura cent'anni anche perché siamo morti prima dei cent'anni però fa tanto male e Teneramata dice ma non esageriamo ciò che succede è che per adesso si è schiavo dell'istante attuale questo ormai ce lo siamo imparati a memoria quindi se devi soffrire soffri ma con pazienza cristiana a che pro amareggiarti il dolore con stare i ragionamenti se hai la speranza dell'eterno presente della beatitudine perché affliggerti più del necessario per un evento così fuggevole non esagerare le tribolazioni che ti invia il nostro Dio sono amare ma sono efficacissime medicine qui Don Pablo ha messo in nota una cosa che era valedetta tranquillamente se era nota non c'era però la leggo le sofferenze del momento presente scrive San Paolo le lettere romani non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi ma che cosa vuoi che siano ancora prima lettere corinzi il momentano leggero peso della nostra tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria ma ci crediamo noi a queste cose qui l'abbiamo già visto in tenera amata ci crediamo che in paradiso c'è una proporzione cioè non è la stessa cosa presentarsi in paradiso carichi di meriti cioè ma vi faccio un esempio io faccio sempre questi esempi sponiamo che una persona ha preso sul serio il discorso del digiuno mercoledì e giovedì e il mercoledì e il venerdì d'accordo? in un anno ci sono 52 settimane io faccio sempre questi giochetti con i numeri quindi vuol dire che se tu fai i digiuni tutti i mercoledì e i venerdì tranne l'ottava di Pasqua di Natale quindi togliamo due settimane sono 50 per due fanno 100 digiuni l'anno lo fai per 10 anni sono mille digiuni lo fai per 20 anni sono 2000 lo fai per 50 anni sono 5000 digiuni ora giudizio particolare si presenta una persona che ha fatto 5000 digiuni ha digiunato per 50 anni fedelmente tutti i mercoledì verdi e si presenta un tizio che non l'ha fatto mai domanda io faccio semplicemente questa domanda tutto normale la sorte di queste due persone sarà la stessa non avrà apprezzato il nostro signore non dirà grazie figlio mio per tutto l'amore che hai mostrato per me grazie per quanto mi hai amato grazie per quanto hai sofferto per me e adesso viene a riscuote ogni mal di testa che ti è venuto ogni volta che ti saresti mangiato sto mondo e quell'altro che ti sei trattenuto sono sofferenze sono piccole perché non è tutto sto granché ma sono piccole sofferenze ma tra 50 anni se c'è qualcuno più giovane che ascolta queste cose facciamo 80 dai facciamo 100 siamo tutti morti c'è più nessuno qui non nella quarta dimensione ci torniamo nella quinta come abbiamo imparato nella quarta dimensione tra 100 anni non c'è sta nessuno e abbiamo soltanto questi 100 anni troppi però 100 verso tutta l'eternità ma se anche stessi a soffrire tutta la vita cioè se tu dici ho una vita che è in calvario fosse anche questo cioè quegli 70-80 anni della vita terrena che te li ricordi proprio sei proprio stato tappezzato bombardato dei croci a tutto spiano e beh 80 anni con l'eternità cioè qualcuno di voi è in grado di stabilire la proporzione che vuoi che siano e se tu hai santificato quel dolore non l'hai sprecato come abbiamo imparato questa sera ma tu sai che succede con quegli 80 anni dei dolori offerti al Signore no non lo sappiamo perfettamente qui ma sappiamo che saranno ricompensate profumatamente con godimenti del tutto particolari perché quanto più noi abbiamo abbracciato anche volontariamente delle afflizioni ci siamo privati di qualcosa o ci siamo dati un dolore che potevamo evitare ovviamente persone psicologicamente sane ed equilibrate perché è vero che esistono delle perversioni psicologiche che si chiamano forme di masochismo o a gente che si taglia tutte queste cose qui non certamente per spirito di penitenza cristiana ma perché stanno male non è questa la penitenza ma le altre sì noi chiediamoci al termine di questa cosa io fino ad oggi al nostro Signore ma che cosa gli ho dato che gli ho dato che gli ho dato quanti digiuni ho fatto quante penitenze ho fatto quante mortificazioni ho fatto quante preghiere ho fatto quante ore quante ore ho passato in preghiera quanto prego ogni giorno a giornale c'ha 24 ore facciamo un po' l'esame di coscienza tempo della preghiera tempo della penitenza tempo del lavoro tempo del tempo libero come stanno le proporzioni chiudo il capitolo invece molte afflizioni mal sopportate rassomigliano a quella del bambino corrucciato che castiga se stesso rifiutando il dolcetto che gli viene offerto per uscire dalla sua arrabbiatura in bella figura ma non ci sarà forse dietro l'arrabbiatura lo spettro della superbia ecco io mi fermerei qui quindi lasciando questa questa puntata appunto alla all'illuminazione del mistero del dolore volendo un pochino sintetizzare nessuno di noi pensi che il nostro signore si diverte a farci soffrire né tantomeno che la causa del dolore ma il dolore l'abbiamo generato noi Dio lo ha preso e lo trasforma e lo vuole trasformare e vuole che noi lo trasformiamo in fonte di santificazione e salvezza se questo facciamo soffriamo di meno qui di chi si ribella soffriamo di meno perché ci risparmiamo un po' di purgatorio dove anche qui in purgatorio chi non prende sul serio la penitenza cristiana poi la voglia piagne pure in purgatorio si piangerà ma allora è troppo tardi noi possiamo e dobbiamo piangere fino a quando c'è tempo di farlo poi sì il pianto delle anime purganti è un pianto purificatore è però un pianto non meritorio sotto certi punti di vista sterile serve soltanto a predisporli a poter godere della visione beatifica che non potrebbero mai sostenere macchiati di di colpe di mancanze anche minime non espiate ma il purgatorio soffre enormemente ma noi diciamo questo si è fatto cent'anni di purgatorio beh in paradiso il signore lo ricompenserà no lo ricompensa manco per niente ma se io sulla terra dico fammi quanti peccati che ho fatto fammi fare un po' di digiuni fammi fare un po' di qualcosa imploriamo anche la divina clemenza imploriamo appunto la perfetta redenzione ispirazione questo è una cosa molto molto inferiore alle pene del purgatorio San Tommaso facciamo come sempre l'interdisciplinarietà vedremo quando arriviamo a San Tommaso diceva che le pene del purgatorio la più piccola delle pene del purgatorio è superiore alla massima pena che qualunque essere umano possa vivere sulla terra quindi più grandi ma non meritorie qua sono più piccole e sono meritorie e anche se fossero croci significative è sempre niente in confronto alle eternità c'era anche San Francesco che diceva la sua fila Strocchetta che poi gli era copiata Santa Gemma tanto è grande il ben che aspetto che ogni pena mi è diletto ci crediamo noi a queste cose ci credi che esiste la vita eterna si parla di tenere la mano ma tu ci credi che è sul serio che esiste il paradiso e che le regole del paradiso sono sempre le stesse cose che sono cambiate negli ultimi 50 anni in paradiso ci serve i dieci comandamenti e si sta tanto più in alto in paradiso quanto più grandi più eroiche sono state le opere eroiche di tutte quante le virtù e in particolare quelle rivolte all'altissimo l'adorazione la lode l'espiazione e il dolore offerto e trasformare in croce bene amici direi che con questo possiamo concludere e ci aggiorniamo se Dio vuole alla prossima puntata Dio vi benedica e la Beata è sempre Vergine Maria sempre tutti vi protegga grazie a tutti